Cari amici, sono oggi onorato di presentare questa bellissima opera di Angelo Dozio. Artista lombardo che inizia a lavorare alla fine degli anni 50, ad esporre alla fine degli anni 50, ma che viene riscoperto solo ai giorni nostri da un mercante francese e da una multinazionale svizzera. Dozio nei suoi lavori supera le tappe del paesaggismo figurativo e del gestualismo informale, imboccando una strada ben più difficile e sconosciuta in particolare per l'epoca, ovvero quella dell'astrattismo geometrico e costruttivista. Le prime opere inoggettive sono della fine degli anni 60 e dei primi anni 70. Da qua inizia a giocare con la materia, liberandosene e fuggendone e arrivando alla sua massima espressione con il ciclo delle rondini. L'opera che state ammirando ora alle mie spalle è del ciclo successivo, ovvero degli orizzonti, con i quali l'artista destruttura il lavoro fatto fino a quel momento e tracciando quello che ad un semplice sguardo può sembrare una semplice serie di linee orizzontali, va a delineare i limiti del subconscio e a porre un limite apparentemente irraggiungibile alla spazialità. L'opera alle mie spalle, siccome si intitola Orizzonti, il suono di Paganini, va a riprendere idealmente anche il lavoro del famosissimo compositore e violinista genovese. Infatti è impossibile non fare un paragone tra la tecnica e la capacità compositiva, nei rispettivi campi ovviamente, dei due artisti. Quest'opera in particolare è stata esposta a Palazzo Collicola nella più recente mostra di Spoleto. Quest'opera è un'opera storica importantissima che non vi dovete lasciare sfuggire e che dovete assolutamente aggiungere alla vostra collezione. Buon appetito!